Questo è il gioco del calcio, ragazzi, questo è il gioco del calcio, sto guardando, siamo nei minuti di recupero e il Paris Saint Germain ne sta passando, questi sono quelli che hanno fatto la finale l'anno scorso, sono i maestri, i maestri del calcio, al momento la partita più bella che puoi vedere è questa. Se mi viene da piangere a pensare a quello che vediamo in Italia, il calcio italiano, la bruttezza del gioco dell'Inter, della Juventus, del Napoli, del Milan, ci metto anche il Milan, io tutti proprio ci metto tutto dentro, tutta la Serie A, la Serie B, la Serie C, tutto brutto in Italia. E dopo guardi cos'è veramente il gioco del calcio, così lo sport, la bellezza, il tentare di andare a rete, qua in Italia, ma ci avete fatto caso che alcune volte ci sono squadre che perdono 1-0 e continuano a stare in difesa, in Italia ci sono squadre che perdono 1-0, stanno perdendo, siamo al cinquantesimo, sessantesimo e continuano ancora ad aspettare l'avversario. Che cazzo, adesso c'è il Paris Saint-Germain vicinissimo, vicinissimo al gol Paris Saint-Germain, quante azioni, una dietro l'altra, una più bella dell'altra. Noi come Nazione Italia non siamo a questi livelli, non c'è nessuna squadra italiana che può competere in questo momento a questi livelli e fa ancora un po' specie pensare che invece la Juventus, fino a poco tempo fa, competeva e come? Perché arrivava in finale, anche l'anno scorso l'Inter è però in Europa League, si vede la differenza fra Europa League e Champions League, però c'è la Roma, sta facendo qualcosa, ma tutto sommato però non ci divertiamo, non ci fanno divertire. Siamo pieni di giocatori vecchi, lo dico sempre, ma pieni, pieni, pieni zeppi di giocatori vecchi che ormai hanno dato e che pensano solo ai loro affari, alle loro situazioni. Qua invece hanno tutti i giocatori giovani, belli, bimpanti, dinamici, pronti a fare anche la giocata bella, dopo tocchi di palla, che non so, ma perché in Italia non li abbiamo questi tocchi di palla? Ma ci fate caso, anche il Bayern, nel Bayern è una squadra solida, non è una squadra di brasiliani, però ha quei tocchi di palla che in Italia noi non abbiamo, noi a Mosecchini l'abbiamo buttato via come niente. Cioè, forse anche la guida tecnica, il settore tecnico italiano è quello che veramente sta andando male in questo momento. Non va bene, ragazzi, non va bene, l'unico è Sarri, l'unico è Sarri che gioca a questi livelli, nel senso che vuole avere un gioco del genere, infatti, è lui che vince col Chelsea in Europa League. Per il resto, bella partita, complimenti a Paris Saint Germain e anche le altre squadre, guardate che non scherzano, il Manchester City gioca bene, il Borussia Dortmund gioca bene, siamo noi, siamo noi che giochiamo davvero male. Quello che dice questa partita è questo, che in Italia si gioca male, ci azzanniamo fra di noi, addirittura vedo anche gente che si azzanna fra di loro, cioè tifosi stessi che si azzannano fra di loro, abbiamo questo piacere di azzannarci e che rottura dei coglioni. Comunque, ciao ragazzi, ciao a tutti, erano i miei 50 centesimi, la partita ormai è quasi finita, bravo Paris Saint Germain, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.